Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 prudenza per nebbia banchi tra Chiusi e Fabro, raccomandiamo di mantenere la distanza di sicurezza. In Fipiri possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Il traffico urbano del capoluogo, possibili disagi per incidente segnalato in via delle Bagnese. Ricordiamo inoltre che sono in corso lavori notturni in via Pistoiese. I provvedimenti di mobilità sono in vigore fino a venerdì 12 giugno. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti.